Intanto grazie direttore, grazie Armando Siri all'invito, mi hanno detto ma perché vai alla scuola di formazione politica della Lega? Perché mi hanno invitato e sono ben felice di dialogare, siamo avversari, avversari politici, siamo da due parti opposte del Parlamento anche se adesso appoggiamo lo stesso governo in una situazione un po' particolare, ma in un paese civile il confronto tra persone diverse è un bene quindi io da questo punto di vista trovo sorprendente che ci siano state delle discussioni su queste, non vi verrò a dire quello che è venuto a dirvi Giuseppe Conte perché alla scuola di formazione della Lega guidata da Siri qualche anno fa Conte venne qui per lisciare il pelo agli studenti e agli amministratori disse io sono populista, uno io non sono populista, anzi io sono esattamente l'opposto, cerco di essere esattamente l'opposto e due non mi va di venire a lisciare il pelo, appartenete a un partito diverso, vengono a dirvi le mie idee, vi fate le vostre idee e poi continuiamo a camminare su strade diverse ma nel rispetto che ci si deve tra avversari questa è una premessa che probabilmente non serviva nemmeno grazie